Dicevamo poco prima della pausa della reazione che i comuni stanno mettendo in campo anche in questa fase particolarissima della pandemia e dicevamo dei comuni che hanno un ruolo in questo caso nevralgico. Intanto qui in studio sono venuti a trovarci per quel che riguarda il comune di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci di San Giovanni è stato l'ex sindaco per dieci anni e che adesso fa parte del consigliere comunale a San Giovanni Teatino e abbiamo anche qui con noi Simona Cinosi, buongiorno Assessore, comune San Giovanni Teatino che segue in particolare anche le vicende collegate alla sanità. Buongiorno Assessore, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, sono giorni particolari questi nel vostro comune? Sì, sono giorni particolari, intensi, l'attività di vaccinazione continua, è un grande impegno che è un impegno che è partito già a marzo dell'anno scorso e abbiamo ripreso subito dopo il periodo estivo e già abbiamo organizzato più di sette, otto sedute vaccinali. Contiamo alla fine di questa seconda tranche, quindi che appunto si chiude il 29 di dicembre, di vaccinare circa 1500 persone. Mi state muovendo in modo particolare, siete impegnatissimi, anzi vi ringraziamo per aver accettato il nostro invito, abbiamo anche sottratto un po' del vostro lavoro in questa fase con i vaccini, con la terza dose che diventa decisiva. Uno zoom anche ci interessava fare sul comune, questo comune particolarissimo che è a contatto con Pescara, è in provincia di Chieti, è il comune dell'area a pieno titolo nell'area metropolitana Chieti-Pescara che è quella anche più popolata in Abruzzo, un ruolo quello dell'ex sindaco Luciano Marinucci che è stato però in questa fase tra i più votati, anzi non il più votato se non sbaglio, della zona del centro Italia anche come percentuale, a conferma di una continuità che è stata rappresentata in questo momento dal sindaco Giorgio Di Clemente che salutiamo, è comunque un ruolo importante per un comune, altrettanto importante sindaco, viene a chiamarla sindaco in questo caso. È sicuramente una grande conferma in termini elettorali ma oltretutto è anche la conferma di un rapporto vivo costante con la mia collettività di San Giovanni Tiatino che ho avuto l'onore di amministrare per oltre dieci anni e che comunque dimostra sempre di essere lì a disposizione e raccogliere tutte quelle che sono le nostre istanze, le nostre sollecitazioni a cercare di far diventare San Giovanni Tiatino, quella conferma che è un paese, una città baricentrica tra Chieti e Pescara, una città dei centri commerciali, ma è anche diventato un modello di vita per le famiglie che si sono venute a stabilire da noi, molto numerose. Molti da Pescara si sono trasferiti proprio a San Giovanni Tiatino che è diventata un po' un appendice, diciamo, pur essendo in provincia di Chieti in questo caso, però moltissimi pescaresi sono a San Giovanni. Sì, ovviamente il cittadino che vuole investire... A San Buceto moltissimi. Il cittadino che vuole investire per il proprio futuro fa tutta una serie di ragionamenti, è ovvio che uno non compra la casa in cima a una montagna e vede solo la casa per quello che è, vede anche il contesto dove intende far vivere e crescere i propri figli. San Giovanni è un territorio che ha puntato molto sulla qualità dei servizi, sulla qualità della vita e la mia amministrazione in particolare negli ultimi dieci anni ha puntato sulla sicurezza e quindi abbiamo puntato sul potenziamento degli impianti sportivi, sulle piste ciclabili quando sono possibili. Avete un bellissimo impianto sportivo, è stato utilizzato anche spesso anche dagli atleti professionisti, anche di calcio, del Pescara, in ogni caso un punto di riferimento anche per chi vuole avvicinarsi alle discipline sportive, no? Sì, è una bellissima struttura, probabilmente è una delle poche a livello di centro Italia che ha una quantità di servizi in offerta all'area metropolitana, in primis, ma che noi abbiamo inteso proprio per quello che era l'offerta che avevamo a disposizione da dare di implementarla, abbiamo ampliato i parcheggi, abbiamo realizzato degli nuovi spogliatoi al campo di... Poi vedremo anche nelle immagini la vostra piazza, i vostri punti di riferimento, sono anche il frutto di un lavoro decennale, un lavoro marinucci nel quale però nell'ultimo periodo gioco forza l'attività prevalente, quella più assorbente che vi ha coinvolto in prima linea è stata quella proprio della guerra al Covid con una pandemia che vi ha toccato anche come comune, anche per quel che riguarda le vittime e tanti contagiati, qual è stato il momento più difficile e che momento state vivendo adesso? Il momento più difficile è stato l'approccio diretto con il Covid-19 perché da noi si è venuto a manifestare su un cittadino che è stato il primo che è stato ricoverato nell'ospedale di Pescara e che poi praticamente ha dato a San Giovanni Tantino un'immagine sulla cronaca nazionale, poi a seguire chiaramente ci sono stati dei focolai importanti sulla residenza sanitaria di San Giovanni Tantino e poi essendo un territorio crocevia dell'area metropolitana la concentrarsi di una serie di persone sul nostro territorio saranno circa 40 mila persone al giorno tra i vari centri commerciali, gli uffici, le attività industriali e commerciali quindi una grande concentrazione ha fatto partire il livello di attenzione proprio da San Giovanni perché noi in 15 giorni abbiamo fatto 11.500 tamponi e quindi abbiamo avuto proprio in mano i dati più concreti e addirittura San Giovanni con la vicina Fontanelli, quartiere di San Donato a seguire, erano l'epicentro del focolaio Covid-19. E poi non lontano anche da quello che è stato un po' un fiore all'occhiello per quel che riguarda i tamponi assessore anche con i vaccini in particolare con un centro che oltre al vostro naturalmente diretto ai vostri cittadini nella vicina Pescara ma comunque sull'asse che conduce da Pescara a San Giovanni c'è stato anche un grande centro di vaccini che è quello che stiamo vedendo in questo momento dalle immagini per un modo di reagire anche, ecco questo è quello del porto turistico però con grande forza c'è stata la reazione. Testa domanda anche per lei, quel momento più difficile dire qual è stato? Sicuramente noi abbiamo cercato di rispondere tempestivamente all'esigenza di provvedere alla vaccinazione di tutta la nostra collettività, tant'è vero che abbiamo trovato uno spazio adeguato che era quello destinato appunto all'accoglienza delle associazioni culturali e degli anziani dove appunto si riunivano che comunque in vista della pandemia poi erano tutte attività sospese per appunto dedicarlo alle vaccinazioni quindi abbiamo avuto proprio sul nostro territorio un centro vaccinale accreditato dalla ASL per garantire a tutti i residenti di San Giovanni Tietino e a tutti coloro che comunque vivono il nostro territorio perché appunto rientranti in un'area metropolitana per motivi legati alla scuola, al commercio, al lavoro, il nostro è un territorio proprio in cui si concentrano anche persone che vengono da fuori e quindi garantire alla comunità residente non di potersi vaccinare senza spostarsi e senza recarsi nei centri limitrofi quindi quelli aperti appunto Chieti, Pescara o Vasto eccetera Assessore ci sono stati dei casi anche di comuni abruzzesi mi riferisco in particolare a quello di Orzogna del quale abbiamo avuto anche del quale abbiamo avuto la testimonianza del sindaco e qui c'è stata anche una frangia anche numericamente ampia di chiamiamoli Novax o quantomeno persone che non hanno voluto procedere non solo alla terza dose ma anche alla prima e alla seconda Nel vostro caso che tipo di resistenza avete trovato? Devo dire la verità che nel nostro caso sì, ci sono stati e ci sono ancora oggi purtroppo persone che sono resti alla vaccinazione, è normale dire che oggi purtroppo è necessario vaccinarsi quindi se mi chiede se sono favorevole alla vaccinazione io dico di sì e ingentivo tutti i cittadini a venire a prenotarsi allo sportello comunale per vaccinarsi ci sono state persone, ci sono tuttora persone poco fa appunto sentivo uno dei medici di base del territorio che appunto mi confermava che alcune persone sue assistite sono appunto positive e sono persone che non hanno provveduto alla vaccinazione fino ad oggi quando abbiamo ripreso le vaccinazioni nel mese di ottobre però devo dire la verità soprattutto nel mese di novembre, fine novembre noi abbiamo cominciato a vaccinare con una seduta alla settimana e mediamente abbiamo scoperto, c'è stata una statistica che abbiamo fatto il 10% delle vaccinazioni fatte giornalmente erano comunque prime dosi quindi su 250 persone si può dire che 20-25 erano comunque prime dosi oggi che abbiamo comunque portato a termine almeno 7-8 sedute se manteniamo questa linea forse qualcosa si sta muovendo così come diventa importante la prevenzione nei giorni di Natale, nei giorni delle feste per una serie di accorgimenti che state prendendo come siete regolati per la festa di fine d'anno ed altri appuntamenti di questo periodo in cui sarà importante stare molto attenti almeno a giudicare dai dati che arrivano i tavoli tecnici sono sempre attivi la prossima seduta col prefetto sarà il 23 il sindaco di Clemente sicuramente si atterrà a quelle che sono le disposizioni che verranno poi date ai vari sindaci e cioè quella che ormai la mia si capisce benissimo evitare gli assemblementi a tutti i livelli probabilmente le disette che oggi stiamo ascoltando dai vari telegiornali sono quella tendenza generale i cittadini hanno timore e ovviamente evitare l'assemblementi sicuramente anche il sindaco di San Giovanni Teatino si adeguerà così come è stato annullato il veglione a Pescara in piazza Salotto sicuramente a San Giovanni verrà fatta la stessa linea ci ne dispiace perché i grandi segnali di ripresa erano la speranza e gli stimoli per poter far ripartire questo volano dell'economia però purtroppo la salute ancora oggi è l'elemento più importante che riguarda l'uomo direttamente dicevamo la salute è un momento importante per questa fase per un comune che comunque diceva prima Marinucci aveva fatto registrare anche il primo caso di ricovero per fare un passo indietro a quei giorni come avete vissuto quella primissima fase che un po' come i numeri purtroppo somiglia anche a questa quarta andata se c'è l'assessore sì beh essendo stata in prima linea insieme appunto a Marinucci la tensione era alta quello che spaventava fondamentalmente era la paura che si leggeva negli occhi della gente era la paura anche delle persone che venivano a vaccinarsi il sentirsi persi e noi che eravamo lì ovviamente a dover confortare gli altri senza poterli neanche avvicinare perché comunque dovevamo mantenere le distanze non è stato facile tanta paura tanto panico anche a volte da gestire con i cittadini che volevano sapere ma che per anche motivi legati alla privacy non si potevano ovviamente rilevare i nomi di chi effettivamente poi San Buceto, San Giovanni Tattino è una piccola comunità ci si conosce tutti e quindi a volte è facile riuscire a capire di chi si sta parlando di chi all'epoca si stava parlando e quindi il sindaco ti ricordiamo che San Giovanni è il comune San Buceto è il cuore in questo caso la polis lo possiamo definire come dobbiamo definirla sì sì è vero e forse ecco questa domanda potrebbe rispondere benissimo Marinucci che all'epoca appunto era sindaco e si è trovato da dover gestire anche le richieste di voler sapere da parte della comunità poi chiederemo anche al sindaco Giorgio Di Clemente come invece sta vivendo questi giorni avremo modo magari di averlo prossimamente qui stavamo dicendo Marinucci su questo guardi è evidente che il fenomeno così come si è presentato alla nostra realtà è stato un momento difficile c'era grande sgomento addirittura sui primi segnali di positività di soggetti che erano rientrati dalle zone di Bergamo dove lavorava c'era quasi una caccia all'untore i cittadini volevano sapere chi erano queste persone eventualmente positive eccetera quindi si è scatenata una sorta di fobia poi con il primo ammalato ricoverato in terapia intensiva intubato a Pescara da lì insomma abbiamo dovuto prendere consapevolezza che questa era una realtà che avremmo dovuto affrontare e quindi io da primo cittadino ma da massima attualità sanitaria locale mi sono messo subito a disposizione degli enti strumentali in primis la ASL e poi i vari comitati costituiti per sostenere i sindaci che ovviamente hanno un ruolo collaborativo ma è evidente che tutte le attività sanitarie vengono svolte dalla ASL di competenze quindi questa è la ASL di Chieti siamo riusciti piano 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 a somatizzare che era un momento difficile che bisognava affrontare che ancora oggi stiamo vivendo e io anche se ad oggi non ho un ruolo attivo nell'amministrazione voglio fare comunque un appello non bisogna abbassare la guardia perché è facile rilassarsi sui segnali positivi che sono stati dati perché era evidente che il nostro territorio la nostra città, la nostra nazione aveva bisogno di segnali positivi però è anche vero che se ancora oggi a distanza di due anni stiamo combattendo contro una pandemia che è un fenomeno che riguarda tutto il pianeta intero e quindi comunque c'è ancora pericolo di morte e molti cari sono spariti ci sono famiglie che hanno perso entrambi i nonni che erano un patrimonio non solo della famiglia ma anche della nostra cultura e ancora oggi c'è questo pericolo sapere che ci sono famiglie che non si sono vaccinate che oggi sono a casa positiva e addirittura le terapie intensive che stanno tornando ai livelli di guardia che erano quelli quasi della prima ondata in questo momento per quanto vi riguarda ci sono dei casi particolari che sono collegati a queste situazioni allora, San Giovanni sì, c'è qualche ricoverato io adesso il bollettino non essendo più sindaco non ho modo di leggerlo direttamente lo fa il sindaco Giorgi Di Clemente ultimamente ha fatto anche un video così come facevo io per informare la collettività per tenerli costantemente al corrente di quello che era il momento che stavamo vivendo e in alcuni casi ha anche servito per dare al cittadino non solo conforto ma anche la capacità di far capire che l'attenzione era veramente alta bene, questa attenzione oggi è ancora a quei livelli non quelli della prima ondata però insomma si parla di una quarta ondata si parla in Europa di casi che stanno comunque segnando il passo su una pandemia che non si arresta le modifiche che il virus ha costantemente in atto purtroppo in alcuni casi mettono in discussione anche le vaccinazioni vaccinazioni che sono momento clou tra poco avremo anche in collegamento il sindaco di Chieti Diego Ferrara che tra le altre cose è un medico e sta somministrando anche personalmente i cittadini di Chieti e con, ricordiamo, anche i bambini che in questa fase possono essere vaccinati vaccinati anche nell'età pediatrica da 5 agli 11 anni però di questo parleremo tra poco dopo la pubblicità voi rimanete con noi perché parleremo anche di questo momento clou per quel che riguarda le vaccinazioni con la corsa ai vaccini e con tantissime famiglie che hanno prenotato i propri bambini per le somministrazioni adesso noi andiamo in pubblicità poi rientriamo tra poco con il nostro talk sulla sanità tra poco grazie a tutti grazie a tutti